Allora ragazzi, parliamo del narratore che è colui che narra la storia. Il narratore può essere interno, chiamato anche omodegetico, perché racconta in prima persona e dice io, oppure può essere esterno o eterodegetico perché racconta in terza persona. Allora, se racconta in prima persona significa che è un personaggio della storia, però come personaggio della storia può essere io narrante, cioè può essere il protagonista e può anche coincidere con l'io narrato, in questo caso. C'è nel senso che se è il protagonista della storia, l'io narrante coincide con l'io narrato. E' come Dante nella Divina Commedia che racconta un viaggio che ha fatto lui stesso nell'oltretomba. Quindi Dante sia protagonista sia narratore e quindi sia io narrante sia io narrato. Cioè è un narratore che parla di una storia di cui è protagonista e quindi colui che narra coincide anche con colui che viene narrato, cioè con il personaggio che è il protagonista della storia e che quindi viene narrato, che è l'oggetto della storia. Oppure può essere il testimone, cioè non è il protagonista ma è un personaggio della storia, magari è l'amico del protagonista e quindi racconta questa storia a cui ha assistito, di cui è stato testimone ma di cui non è stato il protagonista. Per quanto riguarda il narratore esterno invece il narratore esterno non è un personaggio della storia, non è presente come personaggio della storia. Infatti racconta una storia che non lo riguarda, una storia che parla di altri personaggi. E allora in questo caso può essere di due tipi, può essere palese quando si manifesta nella storia con i suoi interventi, cioè con i suoi commenti, con i suoi giudizi, con le sue riflessioni. Come Manzoni nei Promessi Sposi che è un narratore esterno palese perché interviene spesso con i suoi commenti, con le sue riflessioni. Oppure può essere nascosto nel senso che non esiste nella storia appunto come Verga il quale adotta la cosiddetta etlissi del narratore, cioè il narratore nella storia non esiste e come scriveva Verga se la storia si fosse fatta da sé, quindi come se la storia fosse nata da sola e fosse raccontata da sola. Infatti il narratore non compare mai e non compare quindi a descrivere i personaggi, non compare a commentare. Va bene? Il narratore non è presente nella storia, il narratore è nascosto, mentre un narratore palese non solo commenta ma descrive i personaggi, descrive i luoghi come fa Manzoni nei Promessi Sposi. Poi abbiamo anche altri tipi di narratore, c'è il narratore onnisciente, che di solito coincide con il narratore esterno perché è colui che conosce tutto dei personaggi e della storia, conosce il presente, conosce il passato, conosce il futuro dei personaggi, tanto che può anche intervenire con delle prolessi su quello che accadrà dopo. Oppure il narratore inattendibile che non conosce o finge di non conoscere la storia, di solito coincide con il narratore interno perché se un narratore è interno e quindi dice io, e quindi parla di se stesso o comunque racconta la storia dal suo punto di vista, racconta solo la sua campana, cioè il suo punto di vista sulla storia, che non sappiamo se è il punto di vista oggettivo, se è il punto di vista attendibile, è semplicemente un punto di vista soggettivo, personale e quindi inattendibile. Andiamo ai livelli della narrazione. Allora, spesso con la struttura della cornice possiamo avere più livelli di narratore. Allora, che cos'è la cornice? Immaginate la cornice di un quadro che racchiude il quadro, quindi racchiude tutta la scena che c'è nel quadro. Ecco, come la cornice di un quadro racchiude la scena del quadro, così la cornice è una storia all'interno della quale è presente un'altra storia. Immaginate le matriosche russe, no? Che hanno all'interno altre figure, altre matriosche. Ecco, la stessa cosa succede appunto nella cornice. E allora, se c'è una cornice, possiamo avere nella cornice il narratore di primo grado, che è il narratore della cornice. E poi possiamo avere, per la storia che è dentro la cornice, possiamo avere un altro narratore, che si chiama narratore di secondo grado, va bene? Oppure addirittura più narratori, perché come succede nel Decameron di Boccaccio, abbiamo una cornice in cui abbiamo il narratore eterodiegetico, il narratore esterno, il narratore onnisciente, che sarebbe poi Boccaccio, e poi all'interno abbiamo le novelle raccontate dai dieci ragazzi, quindi addirittura abbiamo dieci narratori di secondo grado. Va bene? Non so se è chiaro. Quindi, cornice, c'è un narratore che è presente nella storia, però all'interno della quale può esserci un'altra storia. E allora abbiamo il narratore della cornice, che è il narratore di primo grado, e il narratore della storia o delle storie che sono presenti all'interno della cornice, che sono narratori di secondo grado. Penso, spero che sia chiaro. Grazie. 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 Grazie.